Odo ruba la tempo all'avversario, si coordina per il cross, palla in aria, colpo di destra rete e il raddoppio di Pato. A Ibraimovic, Ibraimovic. Ibraimovic completamente solo all'interno dell'area di rigore, non poteva sbagliare. Il cross perfetto dalla destra da parte di Odo che veramente si è reso protagonista di un esordio in campionato straordinario con due assist. Qui crossa bene, forte, la difesa del Napoli non riesce a controllare Ibraimovic. Ibraimovic che è completamente solo, si preoccupa solo di dare forza al colpo di testa, niente da fare per De Santis.